Ciao Crescenzo, grazie a te sono molto contento di poter aiutare a fare un servizio utile per i futuri o non futuri universitari, quindi grazie a te e complimenti per questo servizio che trovo che siamo veramente molto importanti, quindi lo faccio ben volentieri e sarò sincero e realista come sempre. Perfetto, è proprio quello che sto cercando. Partiamo proprio dalle basi, tu in cosa sei laureato, che percorso hai fatto? Allora, sono Gio Lucani, mi sono laureato in triennale in storia, poi la magistrale in scienza storica all'Università di Torino, in triennale storia greca, magistrale ho fatto storia delle dottrine politiche, quindi un percorso diciamo lineare che il nostro dipartimento a Torino su distorsi diviso in archeologia e in storia. Io ho percorso sempre sia in triennale in storia, sia in magistrale in storia, ma volendo si può anche fare, conosco persone che hanno fatto archeologia, poi hanno fatto scienza storica o da storia hanno fatto archeologia in magistrale, quindi volendo si può fare. Ottimo, come tipo di percorso ti ritieni soddisfatto? Al di là diciamo di quello che poi viene dopo, il percorso in sé è stato interessante? Quali sono stati i punti belli, i punti brutti? Ma allora, punti brutti non si possono dire. No no, l'idea è dire, guarda la cosa. Vabbè, a parte alcuni corsi veramente, alcuni fuori di testa, ma quelli come dire, si trovano dappertutto in università, quindi non è questo il caso. Ma onestamente sono soddisfatto del mio percorso universitario perché è l'unico che effettivamente avrei potuto fare con interesse, per la voglia, ecco, effettivamente affrontare un impegno così gravoso come l'università, dove, a parte che non si è portati come me, cioè per la matematica zero assoluto, ma soprattutto impegnarsi in qualcosa che non richiede così passione, trovo che sia veramente difficile. Io, fortuna o sfortuna che parliamo anche di queste cose oggi, ho questa passione per la storia e ho trovato pane per i miei denti, anche se non è il problema dell'università di Torino, tutta quanta l'università, dalla riforma ai pari della Moratti, sono cadute le facoltà, c'è questo percorso dove di fatto devi fare dei crediti forzati, quella strada è, diciamo, preselezionata, non pensate come una volta che quando c'erano le facoltà, non so, fai storia e devi fare, sparo a caso, dieci esami tutti questi quattro anni e non cinque, decidi tu quale fare. No, invece no, adesso ci sono un po' compartimenti stagni, sul primo anno ho dovuto fare 12 crediti di storia greca, romana, medievale, moderna, contemporanea e altre cose, dove mi ha permesso di approfondire altre cose, però non è così. Poi vedremo anche, perché magari queste cose sono tornate anche utile, strada facendo e ne parleremo dopo. Però sono soddisfatto, dai. Dai, ottimo. E quindi, finita la laurea, poi com'è andato il tuo percorso? Allora, finita la laurea, durante la laurea in corso d'opera ho preso i crediti per abilitarmi all'insegnamento, voglio fare una prima chiarezza, che si può fare confusione. Ci sono i crediti caratterizzati per la classe di interesse, che non so, io ho fatto i crediti per l'A022, che è italiano, lettere alle medie e A012, che è per lettere al bienio e alle superiori. Se avessi voluto, non sono specializzato a insegnare nei licei, perché ancora in un'altra classe, avrei dovuto dare esempio altri 12 crediti di latino, quindi bisogna fare attenzione, appunto, i vari esami che fai, tipo geografia, di avere 12 crediti, ti abilita a certe classi di concorso. Quindi quello è importante farli, e casmai ne parleremo dopo, però in corso d'opera è meglio farli, così uno ce li ha. Se posso dare un consiglio, date l'intriennale, che siete più tranquilli, così magistrale vi potete specializzare. Non fate come me, che li ho dati tutti quanti magistrale, ho dovuto chiedere anche un supplemento di crediti, che si possono chiedere, ovviamente, mi pare io ne abbia chiesti... Vabbè, noi ne avevamo a disposizione 12 in un anno, potremmo dare 12 crediti di più. Io ho chiesto anche un supplemento di altri, quindi fuori dal contesto ne ho dati 18, quindi 12 più 18. Però si possono fare, meglio farli comunque in università e non fuori, quando si esce che si paga di più. Però se potete, date l'intriennale, così siete più tranquilli. Questi sono i crediti caratterizzati. Poi, una volta c'erano i 24 CFU per le didattiche, che hanno ancora un'altra cosa, e ho dato anche quelli. Poi, ovvio, adesso stanno cambiando, ci sono i 60, quindi cambieranno le cose in divenire. Però, quello che conta, voi date, se volete insegnare, cercate quegli esami, che sono quei codici, che ne so, letteratura italiana, fillet 10, ne avevano i 12. Comunque, potete, le vostre università e voi rappresentate gli studenti, se volete potete chiedere anche a me, queste cose le sapete. Comunque, dare i vari, visto che adesso l'università, comunque, a meno di Torino, è ben strutturata, fornisce i vari strumenti per fare i vari percorsi, quindi, negli esami che dovete fare, cercate sempre qualcosa che vi possa interessare per insegnare, se è quello il vostro fine. E che probabilmente è il fine primo, no? A quale si pensa per un laureato in storia. Sì, se vogliamo entrare proprio in questo argomento, ovviamente, diciamo, le cose come stanno, purtroppo, appunto, non è come in ingegneria, dove già prima della laurea ti telefono per trovare lavoro, la strada non è semplice, non è così immediata. Per quanto riguarda la scuola, che è la scelta che ho voluto fare come primo step, che poi ne parleremo anche dopo, la laurea e i vari servizi possono essere. Di fatto, per carità, non è il lavoro per cui ho studiato, ovviamente, chi fa storia. Di fatto, il lavoro, propriamente detto, sarebbe fare ricerca storica, sarebbe andare a fare proprio ricerche in archivio, che è quello il lavoro dello storico. Non tutti possiamo farlo, è una cosa molto lunga, anche adesso si entra in università, diciamo, fin da subito, a 40 anni e più. Non è più tempi come pensiamo, non so, a Nietzsche, che ha 26 anni, era già professore in cattedra. Cioè, il mondo è completamente cambiato, quindi bisogna una scelta che bisogna fare ponderata nel tempo e insegnare, che è anche quella la mia decisione, la scelta che ho fatto, può essere utile. Di fatto, ti dà una propria indipendenza, una propria indipendenza economica, che non fa schifo, voglio dire, avere una propria indipendenza economica. E poi, chi lo sa, in futuro, se uno vuole continuare, si può fare la domanda di dottorato, cioè, se uno acquista anche il acquista, se uno riesce ad avere il posto fisso, può anche chiedere il congedo. La scuola permette di fare il dottorato, poi, una volta finito questo dottorato, si ritorna alla propria cattedra. E il bello che è un lavoro pubblico e queste cose lo permette. Ovviamente, se fossi un'azienda e dicesse all'azienda, senti, io tre anni vado a fare ricerca storia greca, poi torno. Quelli ti dicono, sì, vabbè, rimani pure dove sei. Il bello, quindi la cosa anche positiva, vediamo, della scuola, arrivare, avere la cattedra, che non è così semplice, ma non importa, niente semplice nella vita, permette anche questo. Poi, se vogliamo, è anche un lavoro insegnante nella scuola, che ben o male rientra, ben o male, in quello che uno fa, anche se non è propriamente quello che uno ha studiato all'università. Però, come dire, è un meno peggio che dare le sue soddisfazioni. Poi, è pur sempre un lavoro pubblico che dà le sue soddisfazioni, e sei anche tutelato, perché quale meglio lavoro pubblico per chi inizia, se tu inizi come supplente, ricevi comunque lo stipendio che è dovuto a un insegnante. Per carità, non hai l'anzianità, però di fatto non c'è lo stagismo, almeno per ora non c'è lo stagismo. Poi vediamo cosa si inventano. Quindi, ha le sue garanzie. Se posso, senza una lancia, anche, soprattutto, a mio avviso, se siete comunque delle donne, è molto, come dire, importante che siamo in una società, non definisco patriarcale, che a mio avviso studiando storia è un'altra cosa, però se siamo in una società che ci sono profonde disuguaglianze di genere, è un lavoro pubblico, è un lavoro che tutela tutte quante le donne che lavorano. Quindi, a mio avviso, maggior ragione, vedo una cosa sicura, proprio per la parità dei diritti, cosa che oggi nel mondo del lavoro stanno andando a mancare. Quindi, è una cosa positiva, il mio lavoro pubblico. Posso chiederti perché, con la laurea e storia ci verrebbe da pensare, vado a insegnare storia, storia e geografia, storia e filosofia. Perché poi la classe di concorso, insomma, gli esami che fattere, sono per andare a insegnare a lettere? Perché, appunto, nel mio vario percorso ho dato, facciamo un esempio, per andare a insegnare le medie, e la classe A022. Oggi è il 5 luglio 2024, non so, magari se la vedrete in futuro, cambieranno i nomi, quindi tanto lo fanno queste cose in corso d'opera. Quindi, io dico queste cose in base alla data di oggi. La classe di concorso è la A022. Per accedere devi avere 12 di latino, 12 di geografia, 12 di glottologia, 12 di crediti di letteratura italiana, 12 di crediti di linguistica e alcuni di storia. Storia non le ho contate perché ne avevo a valanghe. Per dirti, quindi questo, bisogna avere questi crediti di accesso per poter accedere alla classe caratterizzante. Proprio così è una regola interna di un bando pubblico, di fatto. Se vuoi entrare devi avere quelle cose lì. Infatti nel mio percorso in magistrale ho dato tutti questi vari crediti. Mentre che studiavo in magistrale, facevo i miei vari corsi di specializzazione e approfondimento, davo esami di linguistica, davo esami di glottologia. Perfetto, giusto una mia curiosità. E dai, allora entriamo più all'interno del tema. Questo lavoro quindi da insegnante ti sta piacendo? È qualcosa che... Non posso rispondere, ovviamente. Bisogna prenderla con la giusta filosofia, forse è quello che mi fa andare avanti, che spero non sarà lavoro di tutta una vita, magari riuscirò a fare un dottorato, quindi lo vedo come una cosa temporanea. Bisogna avere molta pazienza, ovviamente. Se posso dire, un lavoro di insegnante, l'ultimo è una delle tue preoccupazioni. Oggi come oggi, è un lavoro estremamente burocratico, veramente vedi l'Italia burocratica, quando sei dentro il pubblico inizia proprio a vederla di persone, effettivamente quando tu entri in aula e insegni, dici, ah, posso iniziare? Cioè ci sono un sacco di cose. Poi è vero burocratico anche dentro la scuola, cioè ci sono un sacco di attività trasversali che bisogna fare, il ministero ti dice bisogna fare ore di educazione civica, tutte quante giuste, bisogna fare ore di educazione, non so, dell'ambiente, del bullismo, tutte cose giuste, però in intanto taglia anche le ore. Tutto questo. Quindi effettivamente diventa veramente una roba. Dobbiamo fare tutto di più, tutto bello, però sempre con meno ore. Se posso dire, oggi che è assurdo, a mio avviso, alle superiori, geografia e storia si sono accorpate. Se non erro, ci sono due o tre ore a settimana di storia e geografia, la chiamano geostoria, che ho visto anche un libro, per carità. Sarebbe anche bello come programma, ma è un programma già per chi conosce di fatto un po' la storia. Fai la Roma di Augusto, a un certo punto, prossimo capitolo, l'India antica, con questo taglio multiculturale, che ci può stare, capisco, siamo una società multiculturale, però il problema è che non si danno neanche le basi di dove viviamo, soprattutto la scuola di adesso, non è quella che abbiamo fatto noi, discorsi un po' da boomer, che all'elementare facevi il ciclo, dalla preistoria, alla seconda guerra mondiale, le medie, dalla preistoria, alla seconda guerra mondiale, superiori, preistoria, seconda guerra mondiale, no, adesso all'elementare fai preistoria fino alla Roma, alla fine di Roma, alle medie fai dall'alto medioevo, alla seconda guerra mondiale, al superiore riprendi tutto questo, fatto sta, non è neanche le basi per poterlo fare, cioè secondo me, chi arriva in prima superiore, anzi no, forse all'inizio della seconda superiore, si fa la Roma di Augusto, non si ricorda più, perché è normale, l'ha fatto in quinta elementare, e tu il capitolo dopo gli piazzi l'India antica? Oddio, cioè andrebbe bene all'università fare una cosa del genere, ma non per questo, il discorso che si faceva prima, cioè il ministero ha tanti questi bei programmi, belli, multiculturali, sono belli, perché sono questa società del futuro, ma tagliando le ore, e quindi il risultato è che non si riesce a far tutto, e davanti hai persone, a questo posto posso anche capirlo, cioè non hanno neanche gli strumenti per poter comprendere il tutto, e non ci stupiamo se, come dire, i ragazzi di oggi non sanno dove si trovano, ma che non gli diamo gli strumenti per farlo, questo non voglio fare una polemica con la scuola, ma se la seconda guerra mondiale la vedi solo in terza media, vai in giro, io sono di Torino, nord Italia, vedi monumenti ai partigiani, monumenti alla resistenza, però se non hai proprio gli strumenti tuoi, non sai tutto ciò, vedi un film, che non so, Salvate il soldato Ryan, un film che sia sulla seconda guerra mondiale, tu fino a terza media quella roba non riesci a contestualizzarla, però per dire, questo è il mondo della scuola, dove veramente, secondo me è importante, non bisogna prendere come una crociata personale, per cambiare la società, molti insegnanti trovo che hanno questo vizio capitale, cioè hanno il ruolo di educatore, devono cambiare la società in meglio, ecco, bisogna fare il nostro lavoro, farlo bene, ma non prendetela troppo così, perché effettivamente è una battaglia persa, a mio avviso, perché è tutto contro, quindi, però, nonostante ciò, la scuola dà anche soddisfazioni, è anche bella, come lavoro di fatto, a livello di soldi, che alla fine si lavora per questo, se no, se non fosse per i soldi, non si potrebbe fare, anche, ricordo, quando si parlava di fare un dottorato o meno, il mio relatore mi ha detto, mi ha parlato chiaro e tondo, ma lei ha la possibilità di fare il nababbo, vivere per quello così, di rendite, quindi si può fare il dottorato anche in futuro, oppure ha bisogno, come tutti noi, di lavorare, beh, allora la scuola è la cosa che, a livello pragmatico, sarebbe forse più, più segnale. Dottorato in Italia sarebbe pagato poco, in Italia è pagato poco. Certo, però poi dopo che fai, dopo i tre anni? C'è il vuoto, ecco, perché noi facoltà umanistica, abbiamo anche questo, questo vuoto, non è così immediato, fin se il dottorato è entro in università, quindi a maggior giorno, avere le basi solide, di un lavoro pubblico, come la scuola, che permette questo, sei più serene, ti fai la tua dipendenza, che non fa così schifo, diciamo, arrivati ai 30 anni, a meno a 40 anni, non viverei con mamma, mi sembra una buona cosa. E i ministri sono contenti, visto che dicono che in Italia si sta con mamma fino a 40 anni, quindi lavoriamo per questo. Assolutamente. Wow! In me scenario sono per un attimo senza parole, mi devo riprendere un attimo. Posso dirti, diciamo, lavoro alla scuola, che a mio avviso, è la prima cosa, che fatela comunque, se fate questo percorso, ma qualsiasi percorso umanistico, il mio consiglio è, date questi crediti, abilitati per i crediti. Poi, non volete farli, non vi piace la scuola, ok, però li avete, ve li tenete lì, in questi anni, siete ormai obbligati, perché come vi dicevo, adesso all'università, ci sono poi degli esami, tra virgolette, obbligatori, quindi, dateli, informatevi, voi ce li avete, poi, tra virgolette, siete abilitati per poter insegnare. Poi, se non volete farlo, vostra scelta, però, fatelo adesso, in corso d'opera, che non costa niente, che intanto dovete fare questi esami, dovete farli, che farlo dopo costarà molto di più. Quindi, per ora, fatelo, perché anch'io, lì, non sono partito in triennale, no, non voglio insegnare, poi, magistrale, ho avuto, nella via di Damasco, l'illuminazione, ho deciso di prendere i crediti. Quindi, il consiglio che posso darvi, da amico, da uno che ci è passato, intanto prendeteli, poi, voi poi siete liberi di decidere o meno, se non li prendete, non siete più liberi. Certo, e invece mi dicevi che, insomma, intorno a te, hai conosciuto anche persone, colleghi, che hanno fatto altro tipo di esperienze, oltre la scuola. Sì, esattamente, quindi, beh, cantoniamo la scuola che mi avviso, è l'opzione numero uno. L'opzione numero due, ancora prima di sponere la tua domanda, a me c'è l'opzione numero due, che molti sottovalutano, in Italia, e si parla sempre del pubblico. Ovviamente, avere una laurea magistrale, fornisce dei punti, fornisce anche l'accesso, semplicemente per fare dei concorsi pubblici, alcuni concorsi pubblici, li puoi fare solo se non hai una laurea magistrale, ed è, non è una cosa da poco, anche lì, quindi, potete anche pensare, una volta finito, vi dovete guardare i vari bandi, i vari concorsi pubblici che ci sono, con la laurea di storia, l'M84, che volendo si fa anche un master, una specializzazione in archivistica, o anche altri bandi che non c'entrano niente, però in ogni caso, una laurea magistrale fornisce dei punti, per i concorsi pubblici, che non sono cose da poco, quindi, tenete sempre anche in considerazione questo, che volendo, si può entrare nel pubblico, con una laurea magistrale, che non è, a mio avviso, una cosa da poco. Tornando alla tua domanda, rispondo, diciamo, il punto 3, perché da queste, si può anche entrare nell'azienda, e nessuno lo vieta, ovviamente, però ovviamente non siete quei superfighi degli ingegneri, degli economisti, che entrano e hanno le chiavi di accesso di tutto, però, ovviamente, a livello anche di archivistica, qui entriamo un po' nel mito, mi vergogna un po' a dire questa cosa, un amico di un mio amico, è qui veramente una leggenda, potete anche non credermi, perché, ha fatto storia, tutto quanto, e poi è entrato, in un'azienda qui di Torino, che cercava un ruolo lavorativo, per occuparsi dell'archivio, e di fatto, fare storia, e anche questo, fornisce le due grandi branche del lavoro, o fare ricerca, o lavorare negli archivi, o fare l'archivista, quindi, volendo, c'è anche la possibilità, ovviamente, i posti di archivio sono pochi e tutto, però, iniziamo in storia, offre anche questa possibilità, quindi, volendo anche lavorare in azienda, poi in ogni caso, qualsiasi lavoro, forse questo è il punto numero quattro, che non c'entra più, con lo studio che si fa, oggi il mondo del lavoro, è estremamente brutale, comunque, uno si presenta, con un pezzo in mano, che è una laurea, poi, fare un lavoro, tutt'altro, tu almeno, ti puoi vendere, con questo, meglio averla, che non averla, lo so, non è molto incoraggiante, come cosa, però, faccio l'esempio, che, qui a Torino, vicino a Chivasso, c'è Amazon, grande, come dire, distributore, stabilimento, nel nord Italia, nord ovest dell'Italia, ovviamente, per candidati, per fare magazziniere, che non è quello, che tu hai studiato, però, chi guardano, si devono fare, una grande selezione, ovviamente, è brutto a dirsi, ma oggi, il mondo funziona così, tu con una laurea, vieni visto, non dico con un occhio di riguardo, ma vieni già visto, in un determinato modo, perché hai un pezzo, hai un titolo, è una cosa molto burocratica, molto a punti, quindi, una laurea, viene, sempre meglio averla, ecco, quindi, io mi avviso, il grande consiglio, fate tutto quanto, cercate di arraffare il più possibile, crediti di tutto, specializzazione, abilitazione, cercate di avere, proprio durante che fate questo percorso universitario, specializzarvi il più possibile, così avete più carte in mano, poi, una volta usciti, decidete voi cosa fare, però questo è il grande consiglio, fate questo percorso, e prendete tutto quello che potete prendere, perché, ovviamente, io ve lo dico, con un percorso umanistico, non sono così tante le carte, che uno può avere in mano, quindi, quelle che, potete avere, prendere, prendetele, poi, penserete una volta in mano, che cosa fare. È un consiglio, un consiglio interessante, insomma, sicuramente, utile, e che tiene conto, anche della realtà, diciamo, delle cose. A conti fatti, diciamo, una domanda, che sto chiedendo, un po' a tutti, no, è, alla fine, no, alla luce, anche di quella, che è stato, poi, il lavoro, a cui sei andato incontro dopo, ti sei trovato, pentito, della scelta universitaria, che hai fatto, la rifaresti? Ovviamente, pentito, no, come ho detto, fino all'inizio, è l'unica università, che avrei potuto affrontare, che ho studiato, con profondo interesse, quindi, anche lì, quando trovavi quegli esami, che soprattutto erano, i baroni, come si dice, in termini universitario, che te la facciano, veramente pesare, che dormi la notte, sputi sangue, in tutti i modi, però, fatto sta, ero contento, e trovavo interesse, ecco, anche, chi è in difficoltà, perché tutti quanti, siamo passati da quei momenti, dove veramente, inizia a prendere, un sacco di botte in faccia, agli esami, dici, ma che sto facendo, poi soprattutto, il mondo umanistico, dove sputi sangue, poi alla fine fuori, non vedi, dici, devo fare tutta questa fettica, poi per cosa, fuori cosa c'è, c'è ruoto, cioè, devo farmi, che ne so, una laurea in storia, e poi che faccio dopo, tanto devo andare a fare il cassiere, in un supermercato, non è proprio la cosa così invitante, che smetto, vado già adesso, che magari mi prendono, perché sono più giovane, uno si fa questi pensieri, però veramente, cercate anche in questi esami, dove effettivamente, cioè, io ho fatto storia, ovviamente, gli esami di glottologia, erano veramente cose toste, e dicevo, ma chi me lo fa fare, c'è veramente un'altra roba, sono cose di linguistica, che sono solamente, mi hai dato un esame di linguistica, sono veramente, pazzi furiosi, quei libri, c'è una roba che, però veramente, quello che mi ha salvato, essendo una persona curiosa, cercare di trovare, l'interesse, in quello che uno fa, quindi cercare un po', sempre di trovare l'interesse, di spronarsi, ecco, studiate, non tanto, ma questo penso in tutte le materie, cioè, non tanto per dire, per la verifica, per il voto, per tutto, ma studiate perché vi piace, quindi fatevelo piacere, cercate la curiosità, l'interesse, non dico che sarà una passeggiata, ma almeno, sarà lo zuccherino, un po' come da piccoli, sprendeva la medicina, non so, se vogliamo citare Lucrezio, dell'eromonatura, parla di questo, le sue pillole, sono appunto lo zucchero, che si mette intorno al bicchiere, per prendere la medicina amara, ecco, quindi, può essere un, un modo, ci sta, beh, ho visto che hai già dato, in realtà, tanti consigli, e tante, tante informazioni utili, ma, un'altra cosa, che mi piace chiedere sempre, è, se ti, se c'è, un consiglio, che proprio a cuore aperto, spassionato, ti senti di dare, a chi sta anche solo valutando, di intraprendere, questo tipo di percorso, Beh, hanno dati tanti, quindi, un po' tutti questi, il consiglio spassionato, è, una scelta, ponderata, sappiato fino all'inizio, che non sarà semplice, tutti quanti lo sapete, poi, maggior ragione, appunto, cercate di prendere, tutto quanto, il più, possibile, poi, una soluzione, comunque, salterà fuori, ecco, non fatevi problemi, non spaccatevi la testa, gli problemi che non hanno soluzioni, se voi iniziate l'università, dicendo, tanto non troverò lavoro, sarà difficile, sarò disoccupato, cioè, andate in paranoia, non finisce più, affrontate un problema reale alla volta, cioè, fate gli esami, fate la tesi, uscite, quando poi, nella vita, credo sia un consiglio, un po' di vita, quando poi vi troverete, effettivamente, ogni volta nella vita, problemi reali, ci sarà sempre un modo di poter superare, quindi, affrontate i problemi che sono adesso nel presente, che hanno soluzioni, i problemi, quelli del futuro, quando guardate una montagna, e non vedete la cima, perché è piena di rumvole, dite, ah, come farò a passare oltre, preoccupatevi adesso del sentiero, di fare questo primo pezzo, poi, quando poi sarete in cima, un modo lo troverete. Eh sì, un passo alla volta, no? Infatti. Ci sta. E non so, Gianluca, c'è qualcosa altro che ti va di raccontare, prima di chiudere, qualcosa che magari avresti voluto dire, non è uscito fuori, riguardo... Ma, l'università mi è un sacco molto piaciuto, onestamente, mi è dispiaciuto finire, che ne so, idee così, ma adesso devo ancora entrare in ruolo, ecco, volendo molti, anche se fanno un altro percorso universitario, per poter avere maggiori crediti, maggiore, o che appunto, appunto nel pubblico, conto un sacco avere dei punti, quindi se hai un'altra laurea, fanno, fa punti. Mi piacerebbe in cuor mio, poterci tornare, appunto, come ricercatore, tutto, proprio quello che mi piace, poi, chi lo sa, ecco, quindi, il mio percorso universitario, mi sono trovato bene, sono stato anche fortunato, a trovare, professori, professori giusti, ecco, nel senso che, tutto quanto, se veli, coi voti, tutto, per carità, però comunque umani, ecco, quindi bisogna anche avere un po' di, di fortuna, e questo veramente, l'imponderabile, effettivamente, la tucca è greca, cioè, non è, mi spiace, so che ci sono, alcuni, che si trovano veramente, davanti a dei mostri, anche, non solo università, penso al conservatorio, conosco persone che non frequentano il conservatorio, liberamente, è il covo, di, l'università, per un male così grande, non si trova, però appunto, casomai, cercate un attimo di informarmi, ecco, se posso, il consiglio che posso, cercate sempre anche di frequentare, se potete, se non siete studenti, lavoratori, o comunque, anche se lo siete, cercate comunque di frequentare, perché, quando si va a lezione, si prendono appunti, state già imparando, state scrivendo, state facendo vostri, e capite, capite anche un po', qual è il punto fondamentale, perché comunque un esame di storia, credo, non è un'equazione, che deve arrivare a quel risultato lì, sono una serie di cause, ogni professore la prende a modo suo, quindi, andando a lezioni, l'interfacciate con lui, e capite, bene o male, cosa che per lui è importante o meno, come ragiona, quindi, che è una cosa molto importante, quindi, se potete, andate e frequentate, e il mio consiglio, che effettivamente ha funzionato, sono stato un po' un rullo compressore, un po' come una falange macedone, cioè, frequentavo, prendevo gli appunti subito all'appello successivo, se avevo la possibilità, ovviamente, davo gli esami, cercate di fare così, estenuante, per carità, lo ammetto, però a mio avviso, è meglio, perché appunto siete freschi, siete pronti per un esame, poi, lo so benissimo, non è possibile, perché se frequenti, quattro corsi, non è che puoi dare quattro esami, di una sessione, qualcosa dovrei dare anche a sessione successiva, però, soprattutto quelli più complicati, cercate di fare così, fate attenzione, quelli più complicati, penso a latino, non lasciateli per ultimi, perché poi si entra in quel brutto loop, ah, mi mancano due esami, mi mancano solo un esame, sono quelli più difficili, il tempo passa, che c'è la brutta regola, almeno all'Università di Torino, è che un esame, nell'arco dell'anno accademico, puoi darlo solo tre volte, quindi gennaio, quindi gennaio, noi avevamo gennaio, aprile, giugno, luglio, settembre, e mi pare novembre, cinque sessioni, quindi se vi manca solo un esame, non è che potete poi ogni volta, ogni quattro mesi, tipo, ridarlo, potete darlo solo tre volte, e capite, se lo seccate tre volte, vi perdete un anno, e lì tutto quanto, ah, tutti passano, io non passo, sono indietro, questa società ci mette per sé, sei fuori corso, sei vecchio, non ti prende più nessuno, faccio tutto, i soliti discorsi, faccio tutta questa difficoltà, per cosa, che tanto poi, con la laurea di storia, nessuno mi, un'azienda non mi vuole, perché non sono, non fatturo, ecco, quindi per dire questo esempio, frequentate, date il più possibile, date gli esami, il prima possibile, non li, posticipate, soprattutto, gli esami più difficili, affrontateli subito, di petto, non lasciateli per ultimi, giusto consiglio, molto, molto saggio, cosa che, non sto seguendo tanto io, però vabbè, questo è un altro, è un altro discorso, è umano, voglio dire, però sì, fate come dice Gianluca, che bello, benissimo Gianluca, io non ho altre, altre domande, grazie mille, per aver voluto condividere, la tua esperienza, sono sicuro che sarà, utile a tanti, e, noi magari ci vediamo, alla prossima, per qualche live, certo, se posso, non voglio farmi pubblicità, al mio canale, però veramente, se qualcuno di voi, avesse dubbi, in futuro, chi guarderà questa live, ai poster, larga sentenza, chi guarderà questa live, se avesse qualche, dubbio, confronto, vuole avere un parere diretto, mi può contattare, direttamente, su Instagram, riassunti di storia, appena posso rispondo, sul mio canale, trovate anche l'email, riassunti di storia, chiocciola gmail.com, potete scrivere, appena possibile, vi risponderò, come vi ho risposto adesso, ovviamente, poi, quello che tengo a dire, questo è solo quello, che ho visto io, il mio vissuto, non sono qui a dire, che questa è la verità, dei fatti, e così è, vi ho semplicemente raccontato, in modo, schietto, quello che ho visto io, e come mi sono comportato, come non mi sono comportato, poi, no, 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 l'idea, è da più persone, ecco, ci sta, l'idea, anche dietro questi video, è proprio quella di portare, più esperienze, anche più esperienze diverse, proprio per cercare, rifare, un po' il numero, e, perché ovviamente, ognuno parla, in base alla propria esperienza, al proprio percorso, ogni opinione, poi, è personale, e quindi va presa, va presa, ovviamente, per quello che è, però è bellissimo, che ti metti a disposizione, sono sicuro che, magari, tu possa essere, veramente, di aiuto per tanti, insomma. Certo, e non fatevi problemi, che tanto, come dico, anche se siete fuori corso, no, siamo tutti nella stessa barca, inutile, voler, ve lo dico proprio sinceramente, inutile, voler essere, nonostante la società, l'università impone, che devi essere, per forza, in corso, finire tutti qua, tutta l'università, in questi cinque anni, tanto poi, se il concorso, riguardo alla scuola, che ho fatto questo percorso, se tanto il ministero, non badisce il concorso, te ne fai ben niente? No, ma poi, soprattutto, quando poi il ministero, badisce il concorso, non è che tra i requisiti, per il concorso, cioè, in quanti anni, ti sei laureato? Ah, sicuramente, sicuramente, a proposito di questo, sì, esattamente, non c'è che anno, ti sei laureato, poi, il ministero, non fa ogni anno, il concorso, quindi vuol dire, poi, si sei laureato in cinque anni, ma se il concorso, poi, lo badisce dopo tre anni, non avete, serve a niente, soprattutto, quello che conta, uscite, cioè, quello che conta, uscire, capisco la media, tutti i voti, però, se avete difficoltà, effettivamente, quello che conta è uscire, che tanto, il concorso, ve lo dovete fare, anche con 110, non frega niente a nessuno, lì, lo dovete fare, dovete passarlo, quindi, davvero. Parli per l'esperienza, il concorso pubblico, invece, parlo per l'esperienza, di chi, conosce un po' il privato, e posso dire, che anche lì, non serve a niente, tanto il voto di laurea, soprattutto, in quanti anni, ci si è, ci si è laureati, è una cosa, che io ripeto sempre, non ho mai visto, tra due candidati, fare la differenza, ma questo si è laureato, in cinque anni, e questo si è laureato, in sei, e per cui, alla fine, un po' in tutti gli ambiti, questa fretta, che si percepisce, stando all'interno, dell'università, di dover dare, 3.000 esami, in un anno, poi, quando vai fuori, alla fine, non è valutato, assolutamente, non è ritenuta importante, quindi, piuttosto che, avvelenarsi l'esistenza, meglio davvero, accettare anche, di metterci un po' in più, del previsto, insomma, non casca il mondo. No, infatti, io ci ho messo, in magistrale, due anni in più, anche perché, mi è saluto a lavorare, nel 2020, ad aprire 2020, è successo un po' di cose, però, non ce l'avrei fatto, perché appunto, avevo anche latino, come tra gli ultimi esami, perché era stranamente lungo, però, poi, c'è stato anche il problema, 2021, che le biblioteche erano chiuse, per andare a fare ricerca, alla fine, mi sono lavorato ad aprile del 22, quindi, due anni dopo, ma voglio dire, non, non è capitato, niente, di grave, ecco. Vabbè, dai, ottimo, penso che sia un messaggio importante, da ribadire, ribadire, lo dico mille volte, speriamo che, che passi. Bene, allora, grazie Gianluca, e, ci rivediamo, appunto, come dicevo prima, in qualche live. Certo. Grazie a te, per complimenti, per questa.